La nostra azienda si occupa da 54 anni di trasporti e logistica. Per noi la logistica non è solo movimentazione delle merci. Ci piace pensarla un po' come l'acqua che arriva ovunque e genera movimento e cambiamento ed è anche l'elemento essenziale della vita umana. I profili di nostro interesse sono l'operativo trasporti che è un ruolo strategico per la nostra attività ma anche gli autisti che ormai sono diventate merce rara e altrettanto molto preziosa. Attualmente stiamo alla ricerca di un addetto a assicurazioni e danni e un assistente del responsabile handling per analisi tempi e metodi. La nostra politica in generale è comunque quella di ricerca continua di talenti. Per quanto riguarda le opportunità di insegnamento andiamo dal tirocinio al lavoro subordinato secondo il contratto nazionale del lavoro. Per candidarsi è possibile andare sul nostro sito tirsonet.com sia nella sezione candidature spontanee che posizioni aperte oppure è possibile mandare una mail a selezionichiocciolatirsonet.com Mi piacerebbe lasciare un messaggio ai ragazzi dicendo che per noi lavorare in Tirso non è solo offrire un posto di lavoro ma offrire l'opportunità alle persone di trovarsi nel posto giusto in un posto dove si sentano accolte e possano comunque realizzarsi sia professionalmente che personalmente. Grazie a tutti